Ed allora eccoci di nuovo in studio Gianmarco per continuare a parlare degli incendi, la notizia con cui abbiamo aperto questa puntata, è emergenza, incendi in Sardegna, le fiamme stanno divorando l'oristanese, un disastro senza precedenti, questo il commento del governatore Solinas e nello stesso tempo l'Italia è spaccata in due da un punto di vista climatico, al nord flagellato da violenti temporali, al sud temperature molto alte ma è un'estate all'insegna proprio dei cambiamenti climatici, del clima un po' impazzito diciamo un po' in tutto il mondo, dal caldo record alle alluvioni ai tifoni. Allora parliamo di tutto questo con Claudia Adamo fisica dell'atmosfera di Rai Meteo che è collegata con noi via web, buongiorno Claudia, ben ritrovata, ma per gli ultimi aggiornamenti sulla situazione in Sardegna ci colleghiamo con l'inviata della TGR Barbara Cataldi, buongiorno Barbara, com'è la situazione stamattina? Buongiorno a voi, la situazione è quella che vedete alle mie spalle, siamo nelle campagne di Cuglieri, qui tutto devastato come potete vedere, è stato uno dei comuni più colpiti, centinaia e centinaia di ettari carbonizzati dalla montagna fino al mare, dalle 6 di questa mattina sono ripartite le operazioni antincendio con i mezzi aerei a disposizione della regione, ci sono 22 tra Canadair e elicotteri leggeri e poi dovrebbero arrivare proprio nelle prossime ore 4 Canadair dalla Francia e dalla Grecia, tutto questo di supporto. Abbiamo visto animali morti, oliveti bruciati, carbonizzati, è veramente un disastro. Qui è andato a fuoco anche l'olivastro millenario che è il simbolo della comunità, è un pezzo di archeologia botanica di tutto il mondo. Le condizioni meteo non sono delle migliori, in questo momento come vedete ancora il sole non è alto ma il vento comincia a farsi sentire. La protezione civile ha lanciato un'allerta meteo fino alle 18, la temperatura potrebbe arrivare ai 40 gradi e soprattutto tutte le operazioni dovrebbero sedare, dovrebbero spegnere il fuoco entro le 11 perché a quell'ora potrebbe cambiare il vento e potrebbe entrare il maestrale e qui il maestrale rischia di fare danni se i roghi non sono spenti. Ecco infatti ti stavo chiedendo se c'erano ancora dei roghi accesi ma ci hai dato tu la risposta, volevo capire però se si sa qualcosa sull'origine di questi incendi. Beh l'origine, ci sono delle indagini in corso, l'origine probabilmente è dolosa, inneschi di questo tipo sono dolosi, poi ovviamente le condizioni meteorologiche fanno il resto. Nei giorni scorsi le temperature hanno superato i 42 gradi, questi ci spiegavano i giorni più caldi dell'anno in Sardegna e poi i venti come abbiamo detto. Nei giorni scorsi prima lo scirocco, poi il libeccio ma quello che fa paura è il maestrale. Chi è stato in Sardegna lo sa, è un vento forte che spinge, potrebbe spingere le fiamme ancora nelle valli interne della Sardegna. Quindi sì, i fuochi sono ancora accesi e il pericolo è ancora alto, l'allerta è alta. E allora andiamo da Claudia Adamo per commentare insieme, dovremmo avere un'immagine satellitare dell'area che è andata distrutta, se la possiamo vedere, la commentiamo insieme a Claudia Adamo. Eccola, buongiorno a voi. Questa immagine è il dettaglio della costa centrale della Sardegna, la sua costa ovest, guardate questa è un'immagine di ieri, dunque ancora la situazione era limitata. E purtroppo, come diceva la collega, le condizioni meteo hanno favorito il divampare di questi incendi e ancora la situazione è importante. Dunque speriamo che per questo possa concludersi. Questo è dallo spazio, si riesce a individuare bene la zona, vedete la macchia mediterranea, poi fino al bosco, fino alle zone interne. Claudia, parliamo di eventi estremi, perché questi di fatto lo sono, è innegabile ed oggettivo. Il problema è che se ne stanno verificando molti a distanza di pochi giorni. Abbiamo raccontato le inondazioni nel nord Europa, abbiamo visto gli eventi estremi anche nel nord Italia con inondazioni più circoscritte. In Cina, insomma, tutto questo deve farci preoccupare senz'altro, ma è una casualità oppure stiamo vivendo una fase veramente particolare? È il cambiamento climatico che noi stiamo vivendo. Questa la scienza lo dice da 20-30 anni. Con il aumentare la temperatura della terra, l'abbiamo aumentata di un grado rispetto al periodo preindustriale, si sarebbero verificati più eventi estremi, quindi avremo avuto un'intensità più importante e si sarebbero intensificate anche le ondate di calore, che è quello che infatti sta succedendo ovunque. Anche nel nostro paese troviamo un territorio particolarmente rovinato, proprio perché quando abbiamo lunghi periodi di siccità e onda di calore, chiaramente poi il terreno è più propenso a far divampare incendi e cose di questo genere. Quello che sta succedendo purtroppo un po' ovunque, dal Canada, ma anche da noi e in tantissime parti del mondo. E allora andiamo negli Stati Uniti, dove da diversi giorni gli incendi stanno divorando le foreste dell'Oregon. Allora vediamo insieme questo servizio di Claudio Pagliara. La luna piena che illumina i cieli di Washington diventa rosa, effetto cromatico dovuto al fumo che viene dal lontano ovest degli Stati Uniti. Dixie, uno degli incendi che divampano in California, avanza nella contea di Plumas, a nord di Sacramento. Auto bruciate, una decina di case distrutte, centinaia evacuate. Ancora più vasto, Bootleg, che divampa in Oregon, ha già divorato una superficie boschiva grande quanto la città di New York. Gli oltre 20.000 vigili del fuoco mobilitati sono riusciti a ridurlo della metà. Le fiamme, favorite dall'aridità del terreno e da temperature torride, creano un microclima con venti imprevedibili che mettono a repentaglio la sicurezza di chi è in prima linea. In Montana, cinque pompieri sono rimasti feriti. Quest'anno, l'ovest del continente americano, Stati Uniti e Canada, investiti da un'ondata di caldo eccezionale, toccate temperature mai misurate sul globo come i 56 gradi centigri della Dead Valley. A ciò si aggiunge la peggiore siccità degli ultimi decenni. Gli esperti concordano, è il surriscaldamento del pianeta ad aver creato condizioni di caldo e di siccità estremi, che a loro volta favoriscono gli incendi. Non è un campanello d'allarme. I temuti effetti dei cambiamenti climatici sono sotto i nostri occhi. Claudio, allora torniamo da te. L'abbiamo sentito nel servizio negli Stati Uniti. Gli incendi sono ancora più frequenti, durano sempre di più e in questo modo le superfici boschive non hanno tempo per rigenerarsi. Quali possono essere le conseguenze di tutto questo? Allora, questa domanda è importantissima. Infatti, invece di ripristinare il bosco e gli alberi che ci aiuterebbero a stoccare la nitrite carbonica e sarebbero la soluzione naturale al cambiamento climatico, noi appicchiamo il fuoco. Perché poi questi incendi sono praticamente quasi tutti dolosi, perché in natura l'autocombustione è altamente improbabile. Dunque, gli alberi, la foresta, la vegetazione è la risposta al cambiamento climatico. Quello che noi dobbiamo fare, quello che la scienza suggerisce. Gli scienziati delle Nazioni Unite hanno stilato un rapporto nel quale se noi nel prossimo decennio riuscissimo a piantare un'area vasta quanto la Cina di foresta, saremmo già a buon punto per rispondere al cambiamento climatico che abbiamo in atto. Quindi quella direzione è di andare nel ripristinare la natura invece che distruggerla. Grazie, grazie Claudia, delle informazioni davvero preziose. Ovviamente dobbiamo tenere alta l'attenzione sul tema del cambiamento climatico, perché le conseguenze sono purtroppo sotto gli occhi di tutti, Barbara. Torneremo sicuramente a parlare, seguiremo proprio l'evoluzione di tutto questo nei prossimi giorni. Grazie ancora a Claudia Adamo. E adesso...